La parrocchia di Sant'Eustacchio, la frazione Brignano di Salerno, ha ospitato i funerali di Francesco Troisi, il rider di 24 anni, morto dopo l'incidente stradale di domenica sera al Trincerone. In tanti si sono stretti intorno ai suoi familiari, a cominciare dagli amici che conoscevano e volevano bene a Francesco. Lacrime e un dolore composto accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa per l'ultimo viaggio del giovane salernitano. Il tragico epilogo potrebbe però avere anche altre ripercussioni sulla vicenda infatti, stando ad indiscrezioni che arrivano direttamente dagli ambienti della polizia municipale, l'ufficio provinciale dell'Inail avrebbe acceso un riflettore. Come da prassi, in casi del genere, l'attenzione sarebbe concentrata, il condizionale ed obbligo, sul rapporto di lavoro tra il portapizze e l'attività commerciale per la quale Troisi lavorava. Come molti altri suoi coetani, il 24enne aveva scelto di fare il rider per guadagnare qualcosa, tra una corsa e l'altra, a bordo di uno scooter, per consegnare pizze a domicilio ai salernitani. Ma quella di domenica sera, purtroppo, per Francesco, è stata l'ultima consegna. Una tragedia emane che ha devastato non solo la famiglia ma anche le istituzioni cittadine. In tanti, infatti, compreso il sindaco Enzo Napoli, hanno voluto manifestare vicinanza e effetto ai parenti del ragazzo.